14 licenziamenti in tutta Italia, uno anche a Cesio Maggiore. Il gruppo Argenta, che opera nel settore dei distributori automatici di alimenti, ha avviato un grande piano di riorganizzazione interna, senza però confrontarsi con i sindacati. Per questo i dipendenti bellunesi oggi sono scesi in piazza davanti alla prefettura. Con loro anche l'unica collega oggetto di licenziamento, un taglio che i sindacati non capiscono e non accettano. Sono arrivati a ciel sereno dei licenziamenti individuali. Il licenziamento per lei è arrivato senza preavviso, dopo 18 anni di servizio all'interno di questa azienda. È un gruppo solido sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista finanziario. Per cui non capiamo il motivo di tali licenziamenti. Non c'era una perdita da dover rientrare, un'organizzazione plausibile da dover giustificare. Non capiamo e continueremo a non capire. 24 le dipendenti bellunesi del gruppo che in provincia sede a Cesio Maggiore e Lungarone. Mentre i colleghi facevano sentire la loro voce in piazza, la donna destinata al licenziamento si trovava negli uffici della Direzione Territoriale per il Lavoro, per il tentativo di conciliazione. Al momento di lasciare il gruppo, l'applauso degli amici è stato spontaneo. Il presidio è durato tutta la mattina, ma l'attenzione dei sindacati non si spegne dopo questa iniziativa. Il timore è che, una volta subita questa prima riorganizzazione, la situazione possa sfuggire di mano. Tutto il gruppo in Italia presenta dell'utile inattivo e quindi non riusciamo a capire. L'organizzazione in questo caso è stata un accentramento del centralino. La ragazza non faceva centralino a Belluno, faceva tutt'altro, era in amministrazione. È chiaro che quando sei in un ufficio rispondi anche il telefono. Oggi siamo qui e speriamo che domani questa situazione non si ripresenti.